Cosa vuole di bello? Vi consiglio di un fritto che non abbiamo le banane, le mele, le pesche rispondi i limoni di Sorrento Non vuole provare uno? Fanno uno a vedere Ecco a lei signorina Ho preso sto limone ma non si pensa E' molto buono per i sorberti, gelato, è squisito Lo so, è di giovedì, non si non cosi niente in mercato Da tutti i bambini E' buono Scusami C'è la gloria fresca, la radio E' buono, è buono Va bene, quando la compra l'ora? Sì, ora Non carta un attimo, dammi un buio di limoncino signorina Il limone è caluto Mi scusi E qua lei Grazie In tutto sono 65 euro e 90 E' apposto Ma le tira un tre di limone e me lo riprendo Venga Grazie Ehi Giovanna Cosa ti serve? Melanzane? Ma io non so dovevo vendere verdure Io sono la fruttidendola Vendo trovando la frutta Se vuole la verdure deve andare dal mio collega là Ok? Beh Dimmi Marco Cosa ti serve signorinella? Una pesca Ma l'ho detto prima alla signora di prima Le pesche le banane e le mele rosse ma ne abbiamo più Ah che avete? O limone, melone Eh i limoni mi piacciono Sì Limoni Limoni o meloni? Meloni Che cosa vuole? Cocomero, melone cantalupo? Cosa vuole? Melone arancione? Cosa vuole? Melone Arancione Uno? Uno E lo metto una fredda o tutto intero? Intero, intero, intero Ecco a lei Grazie Ciao Ah c'è aspe Francesca Che ti serve a te? Eh no Un melone Arancione Un cantalupo? Sì cantalupo va bene Ecco la busta Ciao In tutto sono 77 euro Ciao Dimmi Luigia Che cosa ti serve a te? Ligina che ti serve? Eh avete le melanzane? Devi chiedere al mio collega Vai Vai a vedere dal mio collega Francesca Il limone Il limone di prima Perché ho il tuo limone di sorrento? Ehi Signorina Versilioni Melone All'ulto il limone di cibo All'ulto il limone di cibo